Venerdì 9 novembre alle 17.30 verrà presentato presso la Filanda di Montevarchi alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza il libro del professor Sterpos che parla della sua esperienza di vita dall'insegnamento fino ad arrivare all'uso di Facebook. Mi sono trovato a scriverlo quasi senza rendere conto, però io più che parlare di me parlo dei fatti che ho visto in questi quattro campi, guerra, scuola, sport e Facebook. Ho cercato che il libro fosse il più oggettivo possibile, cioè parlare di fatti e che i protagonisti fossero i fatti della guerra, i miei ricordi di guerra dai 3 ai 6 anni, della scuola in cui ho percorso tra docente e discente e dirigente scolastico di più di 50 anni, dei miei studi, dello sport e poi una mia esperienza su Facebook, che ho due anni su Facebook, come l'ho visto io Facebook e come ci ho partecipato io. Il comune di Montevarchi ha caldeggiato questa iniziativa. Per molti di noi è stato professore ma anche preside, quindi un'esperienza, vederlo in veste di scrittore per molti di noi è una novità. È una storia, un libro che racconta 80 anni di vita vissuta. Ovviamente è un'interpretazione che il professore dà di una serie di ambiti, per cui racconta le sue percezioni, le sue esperienze in quattro ambiti, Facebook piuttosto che la guerra, piuttosto che il mondo della scuola, ed è quindi la possibilità di ripercorrere 80 anni di vita attraverso gli occhi di un professore.